E' stato un anno difficile per Belen, che dopo aver scoperto dei tradimenti di Stefano De Martino ed essere finita in una clinica riabilitativa, ha litigato anche con l'altro suo ex, Antonio Spinalbese. E questa volta tutto via social, condividendo una storia dopo l'altra, nelle quali svelava ai follower che i due non trovavano un accordo su Luna Marie. Adesso pare però che Belen abbia chiuso anche con Elio. A dare lo scoop ci ha pensato Fabrizio Corona, che ha messo insieme i pezzi che i due hanno lasciato trapelare sui social. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa, scrive l'ex re dei paparazzi. Stando a quello che riportano i tabloid, Elio si sarebbe allontanato da Belen perché infastidito dalle recenti uscite di lei, che sui social ha iniziato ad attaccare i suoi ex Stefano De Martino e Antonio Spinalbese e anche Antonella Fiordelisi. Infatti Belen ha condiviso sui social delle foto in vacanza con la famiglia. Vacanza nella quale però non è presente Elio. Inoltre pubblica una storia che è un himno alla libertà. Nel frattempo Elio viene fotografato in discoteca da solo, che tra i due sia davvero finita.